siamo nel formicaio papà formica è davanti al figlio letto e gli dice ricordati figliolo che nella vita ci sono delle priorità per cui ricordati sempre questo che ti sto per dire dimmi papà le cose che importano veramente sono quattro e se starai attento a fare queste quattro cose allora avrai successo oh grazie papà me lo ricorderò per sempre quali sono queste quattro cose allora la prima cosa è lavorare sempre oh bene la seconda cosa è sempre lavorare bene la terza è lavorare ah bene papà quindi immagino che anche la quarta è lavorare no la quarta è diversa ed è importante quanto le altre dimmela papà la quarta è questa quando sei al lavoro per nessun motivo non farti mai mettere i piedi in testa da nessuno